Buonasera amici sportivi, venti e dintorni come dico sempre del martedì sera, è il tempo di atletica, beh ora vi stiamo abituando anche bene perché devo dire che questa sera nei nostri studi c'è un altro campione italiano, vado a salutare Alessandro Sant'Angelo, buonasera Alessandro, che arriva da Santa Croce sull'Arno, ma come vedete veste i colori della nostra gloriosa atletica Virtus Ducca, come si sta con quella, poi andiamo a presentare anche il signore che lì accanto a te, buonasera Fabio Pizzo, atleta, dirigente importante della Virtus Ducca, grazie Fabio di essere con noi, grazie a voi, ed è giusto poi capirete perché che stasera qui insieme ad Alessandro Sant'Angelo, campione italiano cadetti di Corsa Campestro, di Cross che dir si voglia, ci sia Fabio Pizzo, come si sta con quella medaglia d'oro al collo? Una bellissima cosa, ti sono passate un po' più di 48 ore, hai metabolizzato il fatto che hai vinto, che sei campione italiano? Sì, sì, è una bella soddisfazione, è una grande soddisfazione, io non te la voglio far tenere tanto lì fra le mani quella maglietta, ci fai vedere anche la maglietta? Ecco, bravo, aprila così, allora questa dice il podio a Gubbio e poi se la giri? No, la giri non c'è niente, c'è il simbolo, ho capito, insomma, grande, gran bella soddisfazione per Alessandro, tu sei arrivato alla Virtus tra l'altro da, possiamo dire, da poche settimane? Sì, 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 sì. Ecco, ci racconti subito com'è che arrivi alla Virtus? Ero all'Atletica Fucecchio e cioè volevo cambiare squadra per andare in una squadra molto più grande di quella dell'Atletica Fucecchio. Con tutto rispetto, no, perché fa Fucecchio siccome ci vedono con tutto rispetto per l'Atletica Fucecchio. Sì, sì, sì. E grazie a mio zio, il mio allenatore e abbiamo cambiato società. Poi grazie a Fabio Pizzo, sì, sì, ci ha dato una mano, sì. Che tuo zio, come si chiama tuo zio? Massimiliano Sant'Angelo. Massimiliano, diciamo, allena, allenava nella Virtus, allena la Virtus. Allena nella Virtus. Sì, sì, sì. Per te la Virtus cosa, la conoscevi già, cosa rappresenta? Sì, la mia società ora è diventata una mia seconda casa. Sei contento di essere arrivata alla Virtus? Sì, sì, sì. Non occorre che ti chini, tanto il microfono ti senta, e Fabio Pizzo cosa rappresenta per te? La cosa che mi hai detto prima è molto bella. Hai detto un amico? Ah, un amico speciale. Un amico speciale. Tu hai detto importante anche, diciamo, tutte e due le cose, speciale e importante. Senti, sei in categoria cadetti, quindi hai 15 anni. Sì. 15 anni e frequenti, che scuola fai? La prima liceo sportivo. La prima liceo, dove è che vai a scuola? A Fucecchio. A Fucecchio. Ma a Fucecchio se la sono presa che sei venuto via, no? Eh, un po' d'orsi. Forse, forse un pochino, forse un pochino. Gongola, vedi che gongola, gongola no Fabio, sì, gongola accanto a te Fabio. Allora Fabio, quando tu mi hai chiamato un mese fa, poco più di un mese fa, possiamo dire che io te ci sentiamo tutti i giorni. Certo. Fabio mi ha chiamato e mi ha detto guarda, portiamo alla Virtus un ragazzo veramente interessante. Ora, che un mese dopo questo ragazzo veramente interessante, dai capelli rossi sia diventato campione italiano cadetti, dimmi la verità. Te l'aspettavi? Non me l'aspettavo sinceramente. Dopo qualche piccolo acciacco di due o tre mesi fa, però c'è tanto lavoro dietro, il materiale c'è e dopo l'anno scorso che è arrivato quinto a Trieste, sapevo che poteva far bene e Alessandro quest'anno invece ha tirato fuori altri buti e ce l'ha fatta. In questi casi Fabio, qui insomma faccio leva sulla mia esperienza, si dice che il ragazzo ha stoffa, ragazzo ha stoffa e ha le potenzialità per fare veramente bene. Poi voglio tornare ad Alessandro. Come hai vissuto la sua vittoria? Perché Fabio Pizzer a Gubbio dove tra l'altro ha anche gareggiato con la Virtus nella gara senior dei 10 kg. Come hai vissuto la vittoria di Alessandro? Ma è una vittoria fantastica, l'ho vissuta, diciamo che sono stato lì in attesa, era un po' in tensione. Tu dovevi partire poco dopo tra l'altro? Sì, un'ora dopo la gara sua mi stavo andando facendo riscaldamento. Stavo andando a scaldare, nulla ha detto devo aspettare Alessandro perché voglio vedere come arriva e ho visto che a un certo punto ha dato uno strappo e poi l'ha fatta ritornare sotto ma dopo la curva lui ha aumentato il divario e poi è arrivato con ampio margine. Sì, con sei secondi sul Trentino Girardini e Siciliano Cavazzuti. Senti, sei andato subito a bracciarlo tra l'altro? Certamente sì. L'hai sentito un po' anche tu a questa vittoria? Certo, l'ho sentita mia, di tutta la grande famiglia che siamo, per suo zio che l'allena. e niente, è stato un giorno speciale. Anche perché poi sono arrivati anche altri risultati di cui parleremo, anche se è quello di Alessandro, diciamolo pure, è il più eclatante. Senti, abbiamo visto quelle foto, Alessandro, belle, quando sei lì proprio che stai per tagliare il traguardo. Cosa, hai pensato qualcosa in quel momento oppure l'adrenalina era talmente alta che non si pensa a nulla? A pochi metri dall'arrivo ho cominciato un po' a piangere, avere l'emozione, vedere quello striscione lì in mezzo al traguardo e quando l'ho superato… Ti emozioni ancora ripensarsi, ti emozioni ancora, è davvero straordinario questo ragazzo che conosco stasera per la prima volta ma che mi sta piacendo tantissimo. Tu hai un idolo, chi segue l'atletica, come noi, e cerca di seguire un po' tutto come noi, e Fabio è uno di questi anche, l'idolo che ha il signor Alessandro Sant'Angelo, insomma, è uno che in questo momento nell'atletica è proprio uno dei top a livello mondiale, io direi uno dei top five, poi gli altri quattro scegliete di voi. Come si chiama? Jakob Ingebristen. Jakob Ingebristen, che è quel norvegese fantastico campione del mondo, campione olimpico, aiutami, insomma… Sì, sì, campione europeo, campione di tutto. Cos'è che ti piace di questo atleta? Cos'è che ti ha fatto appassionare a lui? Perché di solito ci si appassiona anche agli atleti azzurri, no? Però in questo caso nessuno può rimproverare a un ragazzo di 15 anni di avere questo punto di riferimento. Cos'è? Cioè, come corre la sua corsa e poi vince sempre. Che non è poco, che non è poco. Beh, la Norvegia lui e l'altro, come si chiama, aiutatemi, quello che fa i 400 ostacoli che sono veramente due fenomeni. Due mostri. No, c'è Fabio Pizzo che sta cercando di ricordarsi il nome. Non mi viene… Senti Fabio, no, dobbiamo dire che c'è stato l'oro di Alessandro, c'è stato però anche un bellissimo argento e sapevamo che questa ragazza, in questo caso un po' più grandicella di Fabio perché lei è una juniores, parliamo di Carolina Fraquelli, allenata dal nostro… Carelli e Enrico. Enrico Carelli, che è arrivata seconda. Sì. Eh? E anche quello, cioè, lei era una di quelle che poteva, no, andare su… Poteva, sì. Non ci si aspettava, cioè, era nell'aria però siamo stati molto bassi e diciamo che è stato un grande risultato per noi, per Enrico, per tutta la Virtus, ma anche in prospettiva futura, anche per la pista, però è stata una bella emozione vedere Carolina al secondo posto. Non me ne sapevo aspettato. Sì, tra l'altro è stata una gara un po' particolare perché lei, non so se avevamo preparato anche una foto, eccola qua, ecco questa foto di Carolina, qui non so a che punto siamo della gara, però Fabio, lei è partita molto tranquilla ed è andata in crescendo, no? Certo, 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 è stato proprio così, è partita nel gruppo, la prima si è subito sfilacciata, è andata via e lei è stata nel gruppetto di 4-5 persone. Di pressuola, non vedo più nessuno, cioè… Lì era già seconda, era già seconda lì, non mi ricordo se era il penultimo o l'ultimo giro, mancava poco all'arrivo e diciamo che lei stava quasi riprendendo la prima. Tu ci hai anche sperato, sono a un certo punto. Ci ho sperato, ho anche fatto il tifo per lei perché se lo meritava, è stata una gara stupenda, da come l'ha affrontata, nulla che dire. Tu quante corse hai fatto quella domenica mattina a Gubbio? Hai fatto la tua, poi hai fatto in pratica quella di Alessandro perché vedendolo così, poi hai fatto il tifo per Carolina Fraquelli, ti hai fatto tre corse. E il sabato la soffetta, un grande sesto posto alla soffetta. E' rimasta a Gubbio Alessandro? Sì, sì, quando ero più piccolo. Che cittadina è? Sì, sì, nel 2018. Ma dico che cittadina è? Io ho seguito la gara, quella dei grandi, di cui poi vedremo le immagini nella seconda parte su Rai Sport, domenica mattina ero qui in redazione però l'ho seguita, che lì avevamo impegnato anche e soprattutto la società del presidente Graziano Poli, che poi alla fine sono arrivati i secondi. C'è quell'anfiteatro romano dove poi anche lo stadio... Stupendo. Ma poi Gubbio, tu dovresti andare una volta a Gubbio sotto Natale, loro fanno un albero di Natale che in pratica è illuminato che sovrasta tutta la città, è una cosa fantastica, è a Gubbio per motivi calcisti. Ma poi rispetto agli scorsi anni avevano modificato il percorso perché quest'anno si passava dentro l'anfiteatro. Eh, ho visto, ho visto, è fantastico. E gli scorsi anni si costeggiava esternamente. Esatto, lui già sabato era là e poi mi diceva stanno giocando Gubbio Cesena, a un certo si è accorto che ha segnato il Cesena, al che lui era contento perché tra le altre cose è anche tifoso della Lucchese, non so se lo sai Fabio, oltre che grande dirigente anche del BAM, insomma, io come fa a farle tutte, non lo so, forse perché è ancora molto giovane. Allora, noi torniamo tra poco ancora con Alessandro Sant'Angelo e Fabio Pizzo, voglio che poi Alessandro ci deve raccontare anche di come è stata tatticamente la sua corsa e poi con lui parleremo delle prospettive, perché quando uno fa il nome di Ingebrigtsen vuol dire che l'idea è anche quella, eh, di fare la pista, eh, perché no? A tra poco. Eccoci tornati, seconda parte di A Tempo di Atletica, questa sera una puntata di quelle monotematiche che ogni tanto facciamo, tutta dedicata alla Virtus Luca, perché avendo in studio campione italiano come Alessandro Sant'Angelo, campione italiano cadetti di Corsa Campestre, preferisci Corsa Campestre o Cross? Corsa Campestre, campione italiano cadetti di Cross domenica mattina a Gubbio e l'atleta, dirigente Fabio Pizzo, ho detto bene Fabio, l'atleta dirigente, no, ho detto all'inizio che Alessandro ci stiamo abituando bene, perché negli ultimi due mesi, tre mesi abbiamo avuto un campione italiano di Pugilato, il nostro Marvin De Mollari, settimana scorsa abbiamo avuto qui il campione italiano rally, che poi ha vinto il rally del ciocco Andrea Crugnola e stasera abbiamo un altro campione italiano, quindi insomma, noi siamo, come si dice, onorati. Senti, tatticamente com'è stata la tua corsa, tre chilometri, Fabio dice che forse erano anche più di tre chilometri, però al di là di quello, te e i tuoi due rivali, il Trentino e il Siciliano, siete subito… Sì, siamo subito scappati via. Te in testa, però hai fatto quasi tutto, sempre in testa sei stato. Sì, sempre stato in testa. Ma ti rendevi conto che quelli non si staccavano? Eh no, no, no. Cosa pensavi quando ti devi… Avevo paura un po' di perdere in volata alla fine, però quando mancava 300 metri all'arrivo, 200 metri, sono scappato via e… Hai deciso di attaccare? Sì, sì, ho deciso di attaccare e… E ti sei accorto che si erano staccati? Sì, 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 le sentivo che erano un po' stanchi, però… E poi le lacrime, eh? Sì, sì. Ma noi glielo facciamo, non ti facciamo più parlare di questo, sennò ti emozioni ancora. Allora, senti, la pista, la pista possiamo dire, senza nulla togliere al cross, diciamo così, la pista è il… io penso che anche Fabio si è d'accordo, è il gota dell'atletica. Sì, sì, sì. Che poi la pista è dove ci sono lì che prizzi, dove ci sono tutti questi formidabili campioni, no? E così via. la pista, tu hai già un record, se non sbaglio, è importante, no? Sì, sì, un record toscano tolto a Chiappinelli, 237,69. Sui mille? Sui mille, sì, sì. Fatto quando? L'anno scorso? La settimana prima degli italiani di cross… di pista, scusa. Ah, ma parliamo del 2022 comunque? Sì, 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 sì. Del 2000… la tua distanza, poi su questo voglio sentire anche Fabio, in quest'anno mi hai detto il 2000? Sì, sì, quest'anno ho mezzo di fare il 2000. Diciamo in prospettiva quando Alessandro Sant'Angelo invece che 15 anni ne avrà magari 20? 1.500, 5.000, 3.000. Eh, le distanze sono quelle. Tu sei un mezzofondista veloce? O anche un mezzofondista? Sì, anche un mezzofondista. Con lo spunto? Lo spunto c'è, sì. Sì, sì, sì. Lo spunto veloce c'è, eh? Sì, 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 dai. Vai in progressione o preferisci aspettare gli ultimi 100 metri? No, no, preferisco andare in progressione. Come fa lui? Eh? Come fa lui? Magari, chissà, un giorno io te l'auguro, avrai la possibilità di conoscerlo personalmente perché… Io penso che come ciclista ho avuto negli anni 90 un idolo, l'idolo mio, Fabio sa chi è, e che ho conosciuto solo l'anno scorso, potendolo intervistare oggi non corre più Gianni Bugno. Quindi c'è sempre un tempo per conoscere i propri idoli. Tu sei troppo piccolo, ma Gianni Bugno è stato un ciclista meraviglioso. Senti, parlando di Alessandro, le sue… No, hai fatto la ghigna su Gianni Bugno, penso che… Sai chi è stato Gianni Bugno, no? No, non lo segui. Non lo so, Guido. Non lo so, il ciclismo… Non lo segui il ciclismo. Ah, ecco, meno male. Il ciclismo poco. C'è qualcosa che non segue. Senti, no, parlando di Alessandro, quali sono secondo te in prospettiva le sue distanze, dove può dare il meglio di sé? Diciamo, tra qualche anno, secondo me, può essere sui 5.000. Pensi più 5.000 che 1.500? 5.000, 1.500, vediamo. Ma le distanze sempre di quel signore che viene dalla Norvegia, alla fine, sono quelle? Sì, sì, quelle che recluta la pista, che dice di farle. Allora, dobbiamo fare complimenti, perché, insomma, è stato un fine settimana a Gubbio, soprattutto la domenica, in cui il cross, ora dobbiamo imparare, lo chiamo sempre cross per rispetto del campione italiano, il cross della provincia di Lucca, con le nostre società, che sia la Virtus, che sia il gruppo polistico Parco Alpeapuane, che sia l'Atletica Pietrasanta, di cui ora parliamo, sono tutte società amiche che fanno parte della grande famiglia di a tempo di atletica, beh, abbiamo fatto un oro, poi mi sembra due argenti, quanti ne abbiamo fatti? Due argenti? No, tre argenti. Eh, Carolina Fraquelli, Isotta Paiotti, di cui adesso vediamo le foto dell'Atletica Pietrasanta a Versilia, che è stata bravissima, eccola qua, Isotta, che poi voi correvate con la maglia rossa della Toscana, giusto? Perché facevate parte della rappresentativa toscana, anche se tu sei un'atleta della Virtus e lei è un'atleta dell'Atletica Pietrasanta a Versilia. Che dici? Questa Isotta pure Fabio è una ragazzina di cui era arrivata, se non sbaglio bene, anche in altre gare, non è stata un'assoluta sorpresa, no mi sembra? No, 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 si è ben comportata. Beh, lei ha perso lo sprint, guarda, la prima è quella a destra, nella foto. Ha fatto una buona impressione. E lei, senti, Alessandro. So anche chi l'allena, quindi... Chi l'allena, diciamolo se lo sai. Gabriele Salini, Pepito Salini. Senti, la tua collega, diciamo, Isotta, a perdere così allo sprint... Sì, vabbè, fai sempre il secondo posto agli italiani, però... Sì, sì, è importante. Tu hai mai temuto, hai pensato durante la corsa, mamma mia, questi non si staccano e mi fregano allo sprint, l'hai pensata? Sì, sì. Eh? Sì, sì. Perché se uno va via da solo, ok, non c'è più nessuno... Ormai ho vinto. Sei un po' più tranquillo. Ma tu sei abituato a fare gara di testa, no? Mi sembra che quando hai corso qui... Sì, qua in Toscana parto e me ne vado e perché non... Ah, bella, questa mi piace. Mi piace più andare qualche volta, vado fuori regione per trovare gente come me, così... Che ti sta dietro fino a 300, poi anche lì parto e me ne vado. Allora, vediamo anche qualche immagine, perché finora abbiamo visto foto. Vediamo anche qualche immagine di quelle che possiamo proporre perché le abbiamo fatte noi grazie agli amici del gruppo podistico Parco Alpiapuane. Allora Fabio, tanto per il secondo anno consecutivo medaglia d'argento, perché qui veramente c'è... Pensa, non avevano Celimo questi del casone, no? Se non sbaglio. No, era lì a guardare. Ma si sono permessi di tenere Celimo a guardare. Quest'altro che ha un nome impronunciabile... Il casone noceto fa storia a parte. Storia a parte. Dobbiamo dire che il gruppo podistico Parco Alpiapuane, noi avremo le Alpiapuane qui martedì prossimo nei nostri studi, insomma, hanno fatto il solito Kiongik che è arrivato a decimo, poi c'è stato Brunier, Boamè, poi c'è stato Matteo Bedini che è arrivato... No, Matteo, Nicolò. Nicolò Bedini. No, Nicolò Bedini che è arrivato terzo tra le promesse. Cosa possiamo dire? Bene. Bene, bene. Sono molto contento anche per loro, contentissimo per Graziano e per tutta la squadra. Sì, hanno fatto veramente... Perché poi non è facile, perché ora si dice... Non è facile ripetersi due anni a fila. Ma poi il casone si può permettere, una società che si può permettere, no, Alessandro, di tenere fuori... Quello è un fuoriclasse. Io l'ho visto in Mondiali quest'estate, Celimo è un fuoriclasse. Di tenere fuori Celimo e di avere un altro che pure vince, abbiamo visto. E secondo me io ho seguito la gara, questa l'ho seguita... Sì, non è che andava a spasso, perché bisogna andare... Però secondo me è andato in quarta. La quinta non l'ha mai messa. Vuol dire essere forti, no Alessandro? Sì, sì, sì. Molto, molto forte. Bene, no, torneremo su questa ennesima medaglia d'argento, secondo argento consecutivo. Abbiamo, prima di chiudere, Alessandro, un'ultima foto, io ti voglio far vedere. Non sono due atleti che fanno il mezzo fondo, però li conosci benissimo. Sono due atleti che possiamo definire con grande orgoglio, due nostri atleti. Perché quella a sinistra è il signor Marcel Jacobs, nonché Lamont, due anni alla Virtus, campione olimpico, campione del mondo, vice campione europeo. E quella a destra è il signor Samuele Ceccarelli, di massa, che si allena al Falcone Borsellino con gli amici dell'Atletica Pietrasanta a Versilia. E sono arrivati i primi e i secondi agli europei. Cosa possiamo dire di questi due ragazzi? Sono due fenomeni, si può dire. Sì, sì, sì. Te l'aspettavi Ceccarelli che ti batte il campione in piccolo? Vedi che si può fare? Sì, sì, sì. Eh? Vedi che si può fare? Si può fare. A scuola ti impegni, sì? Sì, sì, sì. Ci stai provando. Però se ti chiedo l'ultima cosa, poi abbiamo un minuto e voglio chiudere anche con Fabio. Se ti chiedo da grande cosa vuol fare Alessandro Sant'Angelo in questo momento, 15 anni e un paio di mesi hai, no? Se non sbaglio. Sì, sì, sì. 15 anni da poco compiuti, cosa mi rispondi? Eh, vorrei fare l'atleta professionista. Io me la, ti devo dire, me l'aspettavo questa risposta, era quella che volevo. E Fabio, si sente già un po' di profumo di meeting o… Certo, certo, ci state, ci state già lavorando alle grandi. Ci stiamo già lavorando. Ricordiamo la data? 4 giugno. Domenica, quest'anno è di domenica. Domenica 4 giugno, secondo meeting in Città di Lucca. Noi ci saremo. Noi ci saremo. Secondo te sarà un altro? Vi faremo divertire, sarà una grande festa. Sarà un grande meeting? Secondo me sì. Poi magari ora, fra qualche settimana, non ti dico da… Ci sarà la conferenza stampa. Sì, ma poi cominceremo sì ad annunciare, spero, anche qualche nome, che poi anche quelli fanno la differenza. Verrai a vedere il meeting, Alessandro? Sì, sì, penso di sì. Eh? Perché penso ci saranno anche delle gare di mezzo fondo. Sì, 5 mila e qualcosa altro. Eh, quindi. Va bene, abbiamo esaurito… Magari può essere anche per il dilancio nei prossimi anni se ci sarà il meeting a Lucca. Ma perché no? Dai, dobbiamo… Ora l'impianto c'è. C'è tutto. So che non è tutto così semplice, questo lo sappiamo. Però l'impianto c'è, la Virtus c'è, accidenti, se c'è, bisogna che ci siano anche altre componenti. Certo. E ho detto tutto, no? Come dicevano… Tu le hai viste Totò e Peppino quando facevano il loro gag, due attori formidabili. Quello gli parlava e quell'altro non gli diceva nulla e poi gli faceva a un certo punto. E ho detto tutto, no? Ci devono essere anche altre componenti. Noi dobbiamo però chiudere qui perché veramente abbiamo detto tutto. Alessandro, è stato un grande piacere averti con noi. Bocca al lupo per tutto. Salutami Santa Croce sull'Arno, cadate Natale ad un grandissimo come Don Bacchi. Grazie anche a Fabio Pizzo. Grazie a te, Guido. Noi ci sentiamo fra poco, magari domani. Grazie. A tempo di atletica, torna martedì prossimo, sempre alle 20. Grazie e buonasera. Grazie a te, Guido. Grazie a te.